Benvenuti a questo nuovo ciclo di esplorare i confini. Qual è il significato di questa insistenza, vi chiederete voi? Il significato è quello di mostrare proprio come nel momenti più difficili, bisogna saper fare affidamento sulla propria creatività e spirito d'iniziativa. Questa è stata la nostra scelta, in un momento di crisi come quello dettato dalla pandemia, rilanciare un discorso più ampio e innovativo. Quindi questa nuova serie vi accompagnerà per tutta la primavera e nei mesi finali di questa crisi sanitaria. Bene, si inizierà parlando del Carnevale di Fano, della sua storia secolare, poi si toccheranno temi come le onde gravitazionali, l'origine della vita nel cosmo, la vita e l'arte di un grande musicista John Cage, di Nietzsche e di Wagner, di Domenico Modugno, di Fake News e della salute di Gacciaiai Alpini, dell'arte giapponese e del suo influsso sulla pittura europea dell'Ottocento. Vi invito quindi ad ascoltare, a partecipare e se il discorso portato avanti vi piacerà a collaborare con il Circolo Biantini e sulle sue iniziative. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Esplorare i confini. Questo è un ciclo di interviste, di chiacchierate che è organizzato dagli amici del Circolo Bianchini di Fano. Io sono Bruno Siciliano, sono professore ordinario di automatica presso l'Università di Napoli Federico II dove ci troviamo oggi e qua siamo nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione. Il laboratorio in cui ci troviamo oggi è il Prisma Lab. Prisma è un acronimo che sta per progetti di robotica industriale, di servizio meccatronica e automazione. È un laboratorio che è attivo da più di 30 anni, che fu fondato quindi nel 1989-1990 grazie a un grosso finanziamento del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cosiddetto progetto finalizzato robotica. E noi in questo laboratorio, così come in altri laboratori di cui vi parlerò in questa chiacchierata, svolgiamo ricerca sulla robotica. Che cos'è la robotica? Vorrei iniziare da quella che tipicamente viene accettata come la definizione in campo scientifico della robotica. La robotica è definita come la connessione intelligente tra percezione e azione. Quindi affinché noi abbiamo un sistema robotico nella sua concezione più ampia possibile. Non dobbiamo solo pensare a quello che tipicamente colpisce l'immaginario collettivo, cioè il robot umanoide, antropomorfo, l'androide. Noi abbiamo un sistema robotico, ogni qualvolta abbiamo un'azione percettiva, che ci è fornita ovviamente dai sensori, abbiamo un'azione attuativa, quindi diciamo c'è una realtà fisica, c'è un'azione che viene svolta da un sistema. Quindi pensiamo anche ovviamente a una parte meccanica per svolgere questa azione. E poi c'è l'intelligenza, cioè c'è il controllo. Io sono docente di automatica, quindi noi siamo bravi a controllare sistemi fisici di natura diversa, tra cui ovviamente i robot. Quindi se noi pensiamo a paragonare quella che è la robotica con quella che è la percezione comune di cui si sente molto parlare in questi giorni della intelligenza artificiale, anzi spesso nei media, i due termini robotica e intelligenza artificiale, intelligenza artificiale e robotica, sono declinati quasi come fossero due sinonimi. In realtà è opportuno capire qual è la sfida della ricerca al giorno d'oggi sulla robotica e l'intelligenza artificiale. Perché? Perché l'intelligenza artificiale sicuramente riguarda la parte intelligente del sistema, la parte cosiddetta cognitiva, sicuramente riguarda la parte percettiva, però a stretto rigore nel momento in cui io penso a un algoritmo che utilizzi delle tecniche tipo il deep learning, il machine learning, oppure il big data, oppure i clouds, manca l'azione fisica. Allora nel momento in cui noi diamo idealmente corpo all'intelligenza artificiale, abbiamo un'intelligenza artificiale di tipo fisico che in definitiva significa robotica. Noi veniamo da un ventennio di grosso sviluppo delle tecnologie sull'informazione e la comunicazione. Si parla di ICT, cioè di Information and Communication Technology. Bene, grazie allo sviluppo della robotica stiamo vivendo una transizione da quello che sono le ICT a quello che a noi robotici, e questa è una cosa che abbiamo creato, fondato, stabilito in Italia, ci piace definirle come IAT, cioè Interaction Technologies, dove la A è intenzionalmente a lettera maiuscola nella parola interaction, proprio per evidenziare l'importanza dell'azione e fisica. D'altra parte, se pensiamo a un bambino che, diciamo, nella sua tenera età, quindi nel primo anno di vita, comincia a interagire col mondo, il bambino è tentato a utilizzare le mani, a prendere, a toccare, a tastare gli oggetti, a portare gli oggetti verso la bocca. Quindi in realtà scopriamo che della parte percettiva e dei sensi, addirittura più della visione stessa, il tatto gioca un ruolo fondamentale. Ed è chiaro che il bambino sviluppa la sua intelligenza non solo attraverso le sue capacità neuronali che risiedono nel cervello, ma anche attraverso un'intelligenza che potremmo definire incorporata. Si parla di embodiment, cioè di embodied intelligence, perché è la forma stessa delle mani, che è, diciamo, virtuosa per così dire, che consente di esplorare il mondo e di avere un'intelligenza anche periferica, cioè un'intelligenza nel corpo e non solo un'intelligenza nel cervello. D'altra parte, la dicotomia tra corpo e cervello, tra mente e macchina, è un qualche cosa che risale anche al tempo della filosofia greca. Aristotele asseriva la teoria che l'essere umano, in quanto essere intelligente, ha sviluppato la sua capacità di interagire col mondo attraverso le mani, attraverso la capacità di manipolazione. Un altro filosofo greco, Anassagora, era esattamente della teoria contraria, nel senso che sosteneva all'epoca che l'uomo fosse diventato intelligente grazie alla sua capacità di tastare, di manipolare, di toccare. Quindi c'è questa forte dicotomia tra corpo e macchina. Ma torniamo alla robotica, come connessione intelligente tra percezione e azione. Bene, devo dire, noi qua oggi siamo a Napoli, siamo al Prisma Lab, e Napoli rappresenta una delle eccellenze, a livello non solo italiano, ma a livello internazionale, della robotica. E da italiano, da docente, da accademico italiano della robotica, insomma, con una punta d'orgoglio posso dire che la comunità robotica italiana, che riguarda tutta la cosiddetta, diciamo, come dire, catena del valore, cioè non ci sono solo i gruppi di ricerche, i laboratori universitari, ma è tutta la filiera che va dai laboratori universitari ai laboratori dei centri di ricerca, ma anche alle spin-off, alle start-up e anche alle aziende che realizzano tecnologia. Bene, in Italia abbiamo una vera e propria eccellenza. Eccellenza che si misura in termini dei finanziamenti, perché poi alla fine sono i finanziamenti che consentono di fare ricerca competitiva. Bene, i dati che ci vengono da Bruxelles del finanziamento della ricerca in robotica a livello europeo, vedono l'Italia con un saldo positivo del 16,5% a fronte del 13% con cui l'Italia contribuisce al budget della ricerca comunitaria. Quindi, viva Dio, è un settore in cui effettivamente torna in Italia più di quello che diamo. Ci sono stati finanziamenti per oltre 200 milioni di euro, di finanziamenti che hanno riguardato l'Italia in questi anni. Ecco, noi a Napoli abbiamo contribuito non poco al reggimento di questo record. Perché? Perché più o meno un tredicesimo, un quattordicesimo di questi finanziamenti sono venuti a Napoli. Noi, al gruppo Prisma a Napoli, negli ultimi 12-13 anni abbiamo vinto, anche perché si tratta di progetti fortemente competitivi, in cui passa il 5% delle proposte sottomesse, bene, abbiamo avuto finanziamenti in media di un milione di euro e più all'anno regolarmente. E questo ha consentito non solo di crescere, però ha consentito anche a evitare o a ridurre per quanto possibile il fenomeno della fuga dei cervelli, cioè in quei talenti, in quei giovani brillanti che noi abbiamo formato nelle nostre università, che grazie a questi finanziamenti ora hanno delle opportunità di carriera anche in Italia e da napoletano, ovviamente. Io ci tengo col fatto che poi possono restare a Napoli. Io stesso, che ormai ho 35 anni di attività di ricerca, una volta che ho terminato il mio dottorato di ricerca, bene, quindi sono attivo in questo settore da 35 anni, ho fatto le mie scelte e sono voluto restare in Italia e a Napoli, perché ho sempre creduto che le sfide possono essere anche vinte nella propria terra, nel proprio paese. Insomma, io ho un forte attaccamento e anche un forte senso di riconoscenza e di gratitudine verso il nostro paese, verso l'Italia e in particolare verso Napoli e verso la Federico II. Con una punta d'orgoglio posso dire che gli studenti in tutti i principali atenei nel mondo, in America, in Giappone, in Cina, per non parlare di tutti gli atenei europei, studiano sul libro di testo che è, diciamo, di un autore della Federico II. Quindi ecco, questo insomma è un qualche cosa che è una sfida vinta rispetto alla opportunità, se io fossi stato un cervello in fuga e magari avessi accettato una delle n opportunità che mi sono presentate di lasciare questo paese, per esempio, di andare, diventare professore in un'università americana. Questa eccellenza della robotica si misura anche in campo scientifico. Noi professori siamo valutati secondo delle metriche che riguardano l'impatto della nostra ricerca. Bene, i parametri in questo settore, che sono i parametri del sistema Ascopus, che viene tipicamente adottato per l'abilitazione dei ricercatori alla docenza universitaria, vedono l'Italia sulle tre metriche fondamentali di citazioni e dell'impatto della ricerca, vedono l'Italia al primo posto su una di queste metriche nel mondo e al secondo posto solo dietro agli Stati Uniti. Quindi c'è una vera e propria eccellenza. Dal 2019, da due anni a questa parte, noi ci siamo associati in un istituto di robotica e macchine intelligenti che ha sede a Milano e che vede coinvolti tutti gli stakeholders, cioè tutti gli esperti di robotica e tra l'altro, tengo a sottolineare, e credo che fosse in qualche modo implicito nel momento in cui ho dato la definizione della robotica, il fatto che si tratta di una disciplina fortemente interdisciplinare. Per essere esperti di robotica bisogna avere competenze di meccanica, di elettronica, della parte elettrica, della parte informatica, della parte sensoriale di misure e di quello che poi nobilita il tutto, cioè l'automatica, cioè i controlli automatici che forniscono l'intelligenza al sistema. E quindi abbiamo sentito l'esigenza, al di là di quelli che sono i settori scientifico-disciplinari, in cui noi professori universitari italiani siamo divisi, io sono docenti in automatica, collaboriamo con docenti di informatica, di bioingegneria che si interessano di robotica, per stabilire un linguaggio comune e per fertilizzare, per far sì che i contributi di ciascuna disciplina possono contribuire alla realizzazione, al sogno, quello di realizzare delle macchine intelligenti dei robot, ci siamo appunto consorziati in questa associazione di IRIM che è attiva e che ovviamente viene riconosciuta a livello europeo e a livello internazionale. Bene, tra l'altro questo è un anno importante, il 2021, perché sono cento anni che il termine robot, nella sua accezione moderna, è entrato nel glossario, nel senso che il termine robot, che fu coniato in un dramma teatrale del commediografo cieco, tale Karel Chapek, che scrisse nel 1920 una novella dal titolo I robot universali di Rossum. Rossum era questo artigiano che dal momento che aveva diversi ordini non riusciva a soddisfare gli ordini, questa è nella finzione teatrale, pensa di realizzare dei doppi meccanici, delle macchine, degli androidi, che potessero sostituire l'operaio specializzato, l'artigiano, che doveva realizzare, insomma, i prodotti che gli erano stati commissionati. Bene, il dramma fu rappresentato la prima volta in teatro nel 1921, quindi oggi, diciamo, ricorrono, l'anniversario preciso credo che sia stato il 7 febbraio, ricorrono cento anni dell'invenzione del termine robot. Vorrei soffermarmi sul significato della parola robot, perché robot deriva dal ceppo delle lingue slave e significa letteralmente lavoro subordinato, lavoro esecutivo. Quindi, proprio nell'accezione del termine stesso, va a prefigurare un rapporto di dipendenza tra quello che è la macchina e l'uomo, cioè tra l'uomo e la macchina, nel senso che il robot, la macchina, deve seguire quello che l'uomo vuole che faccia. E questo è un punto molto importante, sul quale magari vale la pena tornare più avanti, che riguarda anche dei discorsi di tipo etico, sull'utilizzo buono o meno buono della tecnologia. Bene, la robotica si è sviluppata tradizionalmente. Io sono nato nel 1959, è un anno iconico per la robotica. Perché? Perché è un anno in cui è stato realizzato il primo robot industriale, progettato da un tale George De Waal, un ingegnere della Unimation, ditta americana, che realizzò un primo robot come naturale evoluzione delle macchine a controllo numerico. Quindi, in effetti, sono 60 anni che abbiamo la robotica. Che cosa è avvenuto in questi 60 anni? Si è passati dalle applicazioni tradizionali della robotica in campo industriale, in campo manifatturiero, e i robot che probabilmente vedete nello sfondo del laboratorio Prisma qui a Napoli, sono dei robot che vengono utilizzati, quindi sono dei robot manipolatori, che quindi sono pensati di operare in una cella di lavorazione, in cui fanno delle operazioni, pensiamo per esempio al campo automobilistico, oppure all'industria elettronica, giusto per citare i due settori in cui i robot sono più sviluppati. Bene, i robot che sono stati utilizzati nell'industria, dopo un ventennio, si è capita la potenzialità di utilizzare i robot per applicazioni, diciamo, come dire, che non fossero necessariamente per l'automazione di fabbrica. D'altra parte, i robot utilizzati per le applicazioni industriali andavano a verificare rigorosamente che è il paradigma di subordinazione che è implicito nella definizione di robot e che in qualche modo realizza anche il paradigma delle cosiddette leggi fondamentali della robotica che furono formulate dal più noto scrittore di fantascienza, quindi parlo di Isaac Asimov, che durante, diciamo, i miei anni adolescenziali ha finito poi per influenzare quelle che sono state le mie scelte perché mai e poi mai io mi sarei aspettato che iscrivendomi a un corso di laurea di ingegneria elettronica a 18 anni nel 1977, finiti gli studi nel 1982 della vecchia laurea quinquennale, io avrei avuto la possibilità di fare un dottorato di ricerca e di occuparmi di questa nuova disciplina della robotica che era una delle evoluzioni dei concetti di cibernetica che uno poteva trovare nei libri di Asimov. Quindi, parlavo di robotica industriale, quindi applicazioni in cui i robot venivano utilizzati a distanza dall'uomo, venivano utilizzati in aree, in spazi segmentati in cui effettivamente la macchina non potesse recare danno all'essere umano. E queste sono le applicazioni, diciamo, tradizionali di robotica industriale. I robot che vedete nello sfondo, in laboratorio, e poi vedremo anche uno di questi robot all'epoca, in realtà i robot industriali sono diventati via via dei cobot. Quindi questo è un nuovo termine. Che significa cobot? Significa robot cooperante, robot cooperativo, perché si è capito che grazie ai sensori e grazie all'intelligenza il robot potesse svolgere dei compiti in coabitazione con gli esseri umani in relativa sicurezza. Tant'è vero che la robotica ha iniziato a vivere una sorta di antropizzazione, cioè il fatto che i robot potessero essere utilizzati non solo per sostituire, per rimpiazzare l'essere umano in quelle applicazioni pericolose, oppure pensiamo per esempio alla metafora del film Tempi moderni di Charlie Chaplin di 91 anni fa, del 1930, in cui il povero Charlot doveva eseguire delle operazioni in maniera sistematica, ripetitiva, ed era quantomai frustrante e alienante eseguire queste operazioni. Bene, è chiaro che quello è uno scenario tipico in cui posso utilizzare la macchina, il robot, per sostituire l'essere umano, però ci sono scenari più avanzati in cui il robot può diventare uno strumento prezioso e un compagno di lavoro. Però qua siamo ancora su una realtà di tipo industriale, mentre invece il cobot poi è stato via via utilizzato per applicazioni che non necessariamente prevedessero delle applicazioni in campo industriale e in campo manifatturiero. Mi riferisco a quelle che sono le applicazioni della robotica per l'esplorazione e della robotica di servizio. Peraltro, con dei colleghi di Alti Atenei, io ho coordinato nel scorso anno un gruppo ministeriale nominato dal Ministero dell'Università della Ricerca per stilare il documento programmatico del cosiddetto Piano Nazionale della Ricerca nel settembre 2021-2027 io ho coordinato il gruppo ministeriale della robotica. Bene, nel lavoro che abbiamo fatto a valle di questi 30 anni in cui la robotica italiana si è distinta a livello internazionale, noi abbiamo caratterizzato la robotica in sei scenari applicativi. Quali sono questi scenari? Il primo è senz'altro quello della robotica industriale. Non a caso si parla al giorno d'oggi di Industria 4.0, di Impresa 4.0, cioè della digitalizzazione dell'impresa. Si parla di Cyber Physical Systems, i cosiddetti sistemi cyberfisici, che come vedete realizzano proprio questo concetto di dare corpo all'intelligenza artificiale. Bene, questo è il settore tradizionale, è lo zoccolo duro delle applicazioni robotiche. Però, se andiamo a vedere ora i dati di mercato, scopriamo che, oltre allo zoccolo duro delle applicazioni in campo manifatturiero, abbiamo altri settori di applicazione. Quali sono questi settori? Sono il settore della robotica per la salute, quindi penso, per esempio, a tutte le applicazioni di robotica chirurgica e di robotica riabilitativa, qui a Napoli c'è un centro di ricerca interdipartimentale sulla chirurgia robotica che dirigo io, che è suo al Policlinico, quindi al cosiddetto secondo Policlinico della Federico II, in cui parlo del centro Icaros, in cui abbiamo un laboratorio, un laboratorio di robotica medica, in cui utilizziamo i robot per la chirurgia e per la riabilitazione. Quali sono gli scenari che sono tipici per la chirurgia robotica e per la riabilitazione? Il fatto di avere una percezione sensoriale estesa. Faccio l'esempio della chirurgia. Il sistema più diffuso per la chirurgia robotica al giorno d'oggi è il cosiddetto sistema Da Vinci, realizzato da una casa americana, Intuitive Surgical, in California. Il sistema Da Vinci fornisce al chirurgo la possibilità di operare in una condizione rilassata, come io oggi sono seduto, quindi in una postura ergonomicamente anche, come dire, friendly, quindi poco faticosa, e consente di avere una visione ad alta definizione di tipo tridimensionale. Quindi il robot riesce a... cioè il robot, sono stato quasi freudiano in questa mia affermazione. Il chirurgo riesce a utilizzare il sistema remoto che è al tavolo operatorio attraverso dei joystick e a realizzare le diverse operazioni. Chirurgo che viene da un'esperienza di open surgery, cioè di chirurgia aperta, come si dice in gergo, oppure di chirurgia laparoscopica. Nella open surgery e nella laparoscopia il chirurgo sente con le mani, quindi torniamo anche al concetto del bambino, di toccare, di manipolare, non solo vede. Quindi affinché poi possa utilizzare un sistema robotico per la chirurgia a distanza, deve cercare di interpretare le immagini, la sua percezione visiva e di dare corpo a questa percezione visiva come se stesse toccando in open surgery o con la laparoscopia. Per cui in definitiva noi stiamo realizzando delle tecniche di fusione sensoriale che consentono al chirurgo di andare a coniugare quella che è la percezione visuale attraverso un sistema di alta definizione tridimensionale con quella che è la percezione tattile. La stessa, diciamo, sensazione tattile è fondamentale per la riabilitazione. Qua per esempio parlo dei cosiddetti robot indossabili, alias esoscheletri, che sono dei robot che opportunamente indossati consentono per esempio a una persona colpita da ictus, quindi con delle disabilità di tipo senso motorio, per esempio di alzarsi dalla sedia a rotelle indossando questo robot e di camminare, quindi di deambulare. Quindi in qualche modo consentono di, come dire, di avere delle capacità umane al pari delle persone normalmente, normalmente dotate. Come vedete, in questo scenario, in questo contesto, cominciamo a toccare con mano quelli che sono dei problemi di natura etica nel momento in cui pensiamo che i robot debbano diventare dei compagni quotidiani della nostra vita. Perché? Perché è chiaro che l'esoscheletro può fornire un supporto prezioso al paziente colpito da ictus, però potrebbe per esempio consentire a una persona normalmente dotata, indossando l'esoscheletro, per esempio di avere la capacità di sentire, cioè di non sentire il peso di una persona oppure di un'attrezzatura molto pesante e quindi potrebbe consentire a un uomo di diventare un superuomo. E allora, a questo punto, fintanto che noi abbiamo un utilizzo buono, benefico della tecnologia, potremmo per esempio consentire domani a un infermiere in un ospedale di portare in braccio un paziente e quindi di assisterlo senza stancarsi. Non a caso gli esoscheletri vengono ormai utilizzati addirittura nelle fabbriche, oppure noi abbiamo avuto un altro progetto di robotica per i supermercati, possono essere indossati per ridurre il rischio del lavoro dei cosiddetti disturbi muscoloscheletrici che vengono di chi deve fare un lavoro manuale che può essere stancante o può essere pesante. Però è ovvio che non a caso gli esoscheletri, quando sono stati proposti da ricerca dei nostri colleghi statunitensi, quindi con ricerca finanziata da DARPA, che è l'agenzia che finanzia la ricerca negli Stati Uniti per conto del DOD, del Department of Defense, là c'è un utilizzo meno buono della tecnologia, perché l'esoscheletro è stato utilizzato come supporto ai marine impegnati nelle campagne belliche e nel sud-est asiatico. Quindi come al solito c'è un discorso di etica e da italiano io sono orgoglioso del fatto che abbiamo introdotto in campo scientifico, con un simposio che si tenne a Villanobe, a Sanremo nel 2004, una nuova disciplina di ricerca che si chiama la roboetica, che ovviamente non è l'etica dei robot, perché robot in quanto macchine non hanno un'etica, ma è l'etica di coloro che progettano, di coloro che realizzano, quindi costruiscono, e di coloro che utilizzano questa tecnologia. Non a caso, in campo scientifico si parla di problematiche di tipo ELSE. ELSE è la proposizione inglese, l'acronimo ELSE, anche in italiano funziona, quindi problematiche di tipo etico, di tipo legale, quindi giuridico, di tipo sociologico e di tipo economico relativo a questa tecnologia. oltre al campo della salute, quindi abbiamo visto due campi di applicazione, quello industriale e quello della salute, c'è un altro campo di applicazione in cui c'è una grossa tradizione italiana che è quello dell'agri-food. Bene, il settore dell'agri-food è uno dei settori emergenti della robotica che riguarda sia il concetto, parafrasando quello che è l'industria 4.0, l'agricoltura 4.0, cioè l'agricoltura intelligente, il farming, cioè la possibilità di, per esempio, di coltivare un campo oppure diciamo in un'azienda agricola di ridurre l'uso dei fertilizzanti oppure di ridurre l'uso diciamo dei pesticidi. Noi abbiamo un progetto dell'utilizzo dei robot in vigna, per esempio, in cui ovviamente abbiamo la filostera per la vigna e quindi bisogna ovviamente utilizzare dei pesticidi. E poi c'è tutto il settore alimentare che tra l'altro nella emergenza post-pandemica che purtroppo non mi ha consentito di venire di persona e di salutare gli amici al Circolo Bianchini di Fano, bene, in questa emergenza pandemica capite che il fatto di garantire delle condizioni di igiene nella preparazione dei cibi prevedono l'utilizzo diciamo di robot in tutta la catena, cioè sia per la preparazione per il confezionamento e al limite anche per quanto riguarda il delivery. Quindi non a caso per esempio nell'agricoltura si parla di last mile, di ultimo chilometro. Poi abbiamo altri due scenari importanti su cui vorrei diciamo vorrei approfondire nella restante parte di questa chiacchierata che sono il campo della robotica mobile e dei veicoli autonomi della mobilità. Uno potrebbe dire ma un'auto autonoma è un robot? Sì, perché andando a coniugare la definizione di robotica un'auto autonoma verifica quel paradigma di connessione intelligente tra percezione e azione e tra l'altro per le auto autonome è particolarmente significativo questo discorso diciamo della morale e delle diciamo delle problematiche di tipo etiche perché sono notizie di tutti i giorni che ogni tanto si vede per esempio una persona che ha una Tesla un'auto elettrica che ha un sistema di navigazione che magari ha staccato cioè ha messo il pilota automatico e accade un incidente un domani se l'auto autonoma porterà mio figlio piccolo a scuola in maniera autonoma che cosa succede se per esempio attraversano 4 o 5 persone alla strada improvvisamente dovrà investire queste persone perché è più importante la salute di mio figlio oppure dovrà cercare di scansarle al rischio di andare come dire a impattare contro un palo della luce oppure contro un albero quindi capite bene che queste problematiche sono quanto mai attuali le ultime due aree di interesse ma non per importanza ma diciamo direi anche per quanto riguarda le applicazioni estreme della robotica in cui noi abbiamo organizzato il documento del piano nazionale della ricerca riguarda la robotica per l'ispezione e la manutenzione in inglese si parla di field robotics cioè letteralmente di robotica per l'esplorazione e poi della robotica in ambiente ostile e tra l'altro con l'emergenza del covid noi abbiamo assistito a una ridefinizione dell'ambiente ostile perché perché tradizionalmente nella robotica si pensava a un ambiente ostile per esempio un ambiente contaminato nuclearmente quando c'è stata la la catastrofe non tanto di Chernobyl perché all'epoca la robotica non era ancora sviluppato ma quella di Fukushima bene dei robot sono stati utilizzati dei robot mobili nell'impianto per fare delle operazioni di messa in sicurezza di alcune diciamo come dire apparecchiature che avevano causato questa sciagura nucleare causata anche dallo tsunami che aveva provocato tutto ciò bene questo è il cosiddetto il classico ambiente ostile bene con l'emergenza covid è diventato ambiente ostile anche la fabbrica è diventato ambiente ostile anche la casa le scuole gli ospedali e quindi si è capito ancora di più l'importanza di avere dei sistemi che potessero in questo caso sostituire o coadiuvare l'uomo nelle sue funzioni noi stiamo vivendo in un periodo da un anno e passa a questa parte di smart working quello che per noi è smart working riguarda fondamentalmente il fatto di utilizzare un computer per lavorare a distanza bene grazie all'azione fisica grazie alla robotica noi potremmo realizzare presto un fisica smart working cioè di fare un'azione a distanza che non riguardi solo un'azione intelligente oppure un'azione sensoriale attraverso per esempio le n teleconferenze che noi facciamo dalla mattina alla sera lavorando quindi scambiando dei dati visivi e dei dati vocali ma anche la percezione tattile quindi è proprio questa diciamo la scommessa tornando a queste applicazioni che vedono il robot al di fuori della fabbrica quindi sia quelle per la salute sia quelle dell'agricoltura sia quelle di ambiente ostile sia quelle della mobilità e poi quelle dell'ispezione e manutenzione su cui voi vorrei parlare per il resto della chiacchierata e ci trasferiremo in un altro ambiente tra qualche minuto qual è la challenge che riguarda l'utilizzo di questi sistemi il fatto che rispetto alla ripetitività e alla possibilità di strutturare i movimenti le azioni del robot in campo industriale abbiamo dei sistemi che devono avere una autonomia sempre maggiore allora arriveremo al sistema completamente autonomo io direi anche no nel senso che voglio dire che il sistema completamente autonomo può essere utilizzato solo per quelle applicazioni dove non è richiesta una forte intelligenza sul campo come se intervenisse l'operatore umano in realtà la sfida è quella che in campo di ricerca è connotata dalla cosiddetta shared autonomy cioè la semi-autonomia la autonomia condivisa nel senso che ci saranno delle fasi di impiego in cui il robot in qualche modo suggerisce di fare delle azioni però dobbiamo tenere presente che alla fine sarà sempre l'uomo l'essere umano a decidere e a prendere le decisioni nel rispetto di quella che è la definizione cioè l'etimologia del termine robot il fatto che la macchina è in qualche modo sempre e comunque subordinata all'essere umano prima di trasferirci nella sala alta tensione dove vedremo anche più in là uno dei droni robotici che abbiamo sviluppato qui al Prisma Lab alla Federico II volevo semplicemente ricordare che io ho avuto anche come dire l'onore di scrivere di declinare il lemma la voce robotica per il nuovo dizionario enciclopedico della Treccani e concludo diciamo questa breve voce che ho scritto con una sorta diciamo di proiezione verso il futuro io ritengo che grazie all'intelligenza artificiale e alla robotica noi vivremo presto una sorta di rinascimento una sorta di nuovo umanesimo tecnologico non solo digitale come già avvenuto in cui grazie alle macchine intelligenti noi avremo maggior tempo a disposizione per esprimere quella che è la caratteristica meno artificiale della nostra vita che poi è la nostra intelligenza quindi avremo un umanesimo tecnologico in cui l'uomo è sempre al centro della tecnologia e potrà utilizzare questi mezzi avanzati alla stessa stregua di come internet per esempio ci ha cambiato la vita e ci ha semplificato la vita e quindi avremo più tempo a disposizione questa insomma io sono un ottimista di natura d'altronde occupandomi di tecnologie e di ricerca non potrebbe essere altrimenti per cui penso che possiamo chiudere questa prima parte della chiacchierata e poi vorrei approfondire il tema della robotica per l'ispezione e la manutenzione perché? perché quello è uno scenario particolarmente critico e tra l'altro tengo a dire che qui in Italia e in particolare qui a Napoli da Federico II noi ci siamo come dire affermati in campo non solo scientifico ma c'è una start up che è stata creata su uno spin off universitario che è la Neabotics che è preposta a realizzare sistemi di robotica di servizio per l'ispezione e la manutenzione e tra l'altro questo viene a valle di un decennio di successo in cui noi abbiamo avuto finanziati dalla Unione Europea ben otto progetti di ricerca quindi con finanziamenti europei sulla robotica aerea ecco da italiano e da napoletano lo dico con appunto orgoglio perché non c'è nessun gruppo in Europa che possa vantare un record di questo genere poc'anzi parlavamo dei cobot cioè dei cosiddetti cobot che vengono utilizzati per la cooperazione quindi che condividono lo spazio di lavoro con gli esseri umani questa sfida del cobot in realtà pone all'attenzione non solo di coloro che fanno ricerca ma anche di coloro che un domani vogliono realizzare diciamo il concetto di personal robot cioè un robot che possa essere utilizzato da chiunque la difficoltà maggiore e anche diciamo la riluttanza nell'utilizzare questo tipo di tecnologia riguarda nella complessità cosa voglio dire uno strumento che in qualche modo fa parte della nostra vita tipo uno smartphone oppure come potrebbe essere un tablet è diventato una tecnologia pervasiva di tipo ubiquitario nel senso che non ci facciamo più caso al fatto che ciascuno di noi utilizza o possa utilizzare uno smartphone o un tablet bene quando è che avremo il personal robot lo avremo quando il robot diventerà tanto intuitivo da essere una qualunque io a volte utilizzo anche in maniera provocatoria il termine gadget perché il gadget viene a volte la narrazione sul gadget a volte è negativa nel senso che è un prodotto elettronico di consumo io ne vedo diciamo l'aspetto positivo che è talmente intuitivo che diventa un plug and play e chiaramente è anche una questione di costi perché così come la persona comune decide di spendere mille euro per uno smartphone oppure un tablet un domani potrà spendere mille euro per avere un robot companion che può utilizzare per le applicazioni più svariate robot companion probabilmente c'è già nelle nostre case il robot aspirapolvere però le funzioni diciamo di companionship sono quanto mai quanto mai limitate c'è da dire che però pensando anche alle applicazioni in campo medico bene i robot vengono utilizzati non solo per azioni fisiche come quella della chirurgia robotica o della riabilitazione ma anche per le applicazioni sociali i robot di compagnia sociali sono utilizzati per esempio per l'intrattenimento per la cura degli anziani e per la cura di terapie di autismo precoci nei bambini proprio per il fatto che la macchina essendo molto friendly essendo molto insomma è anche l'aspetto della macchina alla sua importanza poc'anzi noi parlavamo anche diciamo dei campi di applicazione della robotica ne abbiamo visti diciamo 4 più 1 più quello della robotica in ambienti ostile ora ci troviamo nella sala alta tensione del dipartimento di ingegneria elettrica e tecnologia di informazione qui alla Federico II dove stiamo sviluppando delle applicazioni di robotica aerea per la manutenzione sistematica delle linee elettriche di alta tensione in cui utilizziamo dei droni il concetto il drone è un qualche cosa una tecnologia che è già diffusa e tornando proprio a questo aspetto commerciale è quasi diventato un gadget perché io vado online e posso acquistare un drone per fare per esempio delle riprese cinematografiche per fare dei filmati per realizzare per fare delle foto aeree e così via però dove viene la parte robotica torniamo sempre alla definizione c'è la parte sensoriale quindi c'è la telecamera che inquadra però c'è anche un'azione fisica bene quindi perché si parla di robotica aerea perché si parla di manipolazione aerea perché oltre alla possibilità di avere per così dire un occhio volante noi abbiamo sviluppato qui a Napoli da dieci anni a questa parte una mano volante c'è un drone che sia in grado di volare e anche di fare delle azioni fisiche uno scenario come la linea alta tensione e non è l'unico scenario è uno scenario che è per definizione ostile pensate che per esempio le riparazioni sulle linee di alta tensione vengono attualmente fatte da un operatore che si cala sulla linea da un elicottero quindi estremamente pericolosa e con costi molto onerosi quindi c'è una questione di rischio e di costi che si poi si porta alla stessa differenza di potenziale in modo da non rimanere fulminato e fa la riparazione bene questo è uno degli scenari applicativi in cui si possono utilizzare dei droni che siano diciamo intelligenti e che siano in grado non solo di volare anche perché volare per un drone è estremamente dispendioso da un punto di vista energetico per cui andiamo sempre sul collo di bottiglia della batteria così come un'auto autonoma ha un'auto per esempio ibrida un'auto ibrida di tipo plug-in ha un'autonomia di 40-50 km il drone può avere un'autonomia di qualche minuto di volo indipendenza del peso e del carico infatti si tende a realizzare dei droni che sono in fibra di carbonio in materiale molto leggera proprio perché il carico pagante è quello che limita l'autonomia di questi sistemi bene vedrete in qualche filmato di repertorio che sarà mostrato a corrido di questa intervista per esempio la possibilità di utilizzare un drone ibrido che sia in grado di volare o anche poi di ruotare di rotolare quindi con un dispendio energetico per esempio su una tubatura per fare delle operazioni quella si chiama in campo tecnico una spessimetria cioè una misura dello spessore della tubatura in caso diciamo di corrosione in caso diciamo di imperfezioni oppure di rotture sulla tubatura quindi sono operazioni estremamente pericolose però il settore dell'ispezione e della manutenzione ha una valenza più vasta nel momento in cui io penso una tubatura pensa a un impianto industriale per esempio un impianto petrolchimico in realtà ha una valenza anche per le infrastrutture civili pensiamo alla tragedia che ha colpito l'Italia con il crollo del ponte Morandi a Genova due anni fa bene perché purtroppo la struttura diciamo è collassata perché probabilmente non è stata fatta un'ispezione è una manutenzione periodica dei piloni del ponte dei tiranti è chiaro questo è uno degli scenari cioè il ponte il viadotto è una infrastruttura critica a tutti gli effetti ed è uno dei campi di applicazione in cui la robotica effettivamente può dare un contributo non indifferente quindi in definitiva diciamo noi qua siamo tornati a uno scenario in cui effettivamente rispetto all'operatore che opera su una linea alta tensione oppure pensiamo solo alle sciagure ai morti che contiamo ogni anno nei cantieri idili se non sbaglio se non erro in Italia c'è 1.3 persone che perdono la vita per i cantieri idili nell'edilizia bene questi sono tutti i settori in cui effettivamente l'utilizzo del robot è vantaggioso perché sostituisce una mansione pericolosa e tra l'altro molto costosa però questo fatto della sostituzione oppure della coaduvazione della macchina per l'essere umano pone anche un altro problema all'attenzione proprio pensando a quello che sono ELTS cioè etica legale sociologica ed economica del quello che diciamo gli esperti di economia i manager in campo industriale riguardano il return of investment ROI si parla diciamo in gergo bene quando è che conviene o meno utilizzare un robot bene è chiaro che questo può portare anche ci può portare ci può far virare verso quello che tipicamente può essere un luogo comune che a torto è stato accettato tra l'altro lo statement che a causa della robotica a causa dell'intelligenza artificiale e a causa dell'automazione si perderanno di qui a 10 anni 5 milioni di posti di lavoro è stato fatto in un consesso importante perché è stato fatto al forum mondiale dell'economia a Davos credo 3-4 anni fa bene non c'è nulla di più demagogico e di più sbagliato perché perché faccio un esempio uno dei colossi nella distribuzione nella logistica e potete capire bene a chi mi stia riferendo nell'ultimo anno ha impiegato ha acquistato e ha installato nei propri impianti anzi utilizza un termine quasi provocatorio ha reclutato ha assunto quindi come se la macchina fosse alla stessa stregua diciamo dell'operaio del tecnico ha assunto 500.000 robot nelle proprie linee di logistica e distribuzione allora sembrerebbe che si sono stati 500.000 posti di lavoro persi in realtà non è così perché nello stesso periodo di osservazione questo colosso ha assunto 800.000 persone quindi è chiaro che si tratta di una riconversione del lavoro e è chiaro anche di una riqualificazione d'altra parte noi dobbiamo renderci conto che il concetto del posto di lavoro fisso di una persona che lavora per una società per un'azienda un'intera vita professionale lavorativa è un qualche cosa che al giorno d'oggi nel 2021 è un qualche cosa che fa parte ormai del passato quindi in una riconversione noi siamo in un contesto di continuous education siamo in un contesto di web learning a tutti gli effetti e quindi è chiaro che nella riconversione dei posti di lavoro se vorremmo utilizzare queste macchine intelligenti e questi robot dovremmo essere pronti a riqualificare il lavoro e quindi torniamo ancora una volta a questa sorta nuova diciamo di rinascimento perché perché è chiaro che gli 800.000 lavoratori che operano nel sistema di logistica di distribuzione fanno un tipo di lavoro che è molto meno stressante rispetto al lavoro fisico di impacchettamento e di smistamento avevo visto un'intervista in televisione qualche mese fa che mi ha colpito e ho visto che c'era una responsabile di questo shop floor in cui c'erano tutti questi robot e la persona che diceva che questa signora intervistata diceva che lei faceva un lavoro di babysitter dei robot che facevano tutto lo smistamento automatico delle merci e dell'impacchettamento quindi in qualche modo c'è anche un tipo di lavoro che è diverso quindi chiaramente la macchina riesce a supplire da un punto di vista fisico a una serie di operazioni ed è chiaro che a questo punto il valore aggiunto riguarda anche l'intelligenza e la capacità di gestione di un sistema fisico demandando alla macchina l'azione fisica così come nel caso per esempio dell'ispezione e manutenzione delle linee alta tensione oppure di quello che può essere un impianto un gasdotto un orodotto oppure può essere un impianto chimico questa è un'altra realtà in cui possiamo pensare di utilizzare il robot peraltro nel momento in cui si parla di infrastrutture civili quindi di ponti e viadotti abbiamo ancora un altro scenario interessante che è quello del patrimonio culturale di un paese nel senso che tra l'altro noi in Italia abbiamo tutto perché abbiamo la tecnologia abbiamo anche l'arte pensiamo a tutti i siti artistici un terzo dei siti artistici di tutto il mondo si trova in Italia per cui non è solo il fatto magari della virtualizzazione cioè il fatto anche di consentire la visita virtuale di un museo per cui una persona che sta in California ora può andare a visitare il nuovo mausoleo di agosto che è stato inaugurato a Roma qualche giorno fa e quindi fare una visita virtuale oppure magari in questo tempo di pandemia posso fare delle visite virtuali a un tempio nel sud-est asiatico e così via ma c'è anche un aspetto legato proprio alla manutenzione e alla preservazione del patrimonio culturale e artistico anche qui la tecnologia può dare un ruolo importante che non è solo quello della virtualizzazione cioè torniamo sempre alla parte diciamo intelligente della realtà virtuale dell'intelligenza artificiale e così via ma anche proprio al fatto di consentire la manutenzione periodica e il fatto diciamo la conservazione del patrimonio culturale e artistico di questo paese è stato un vero piacere potervi ospitare oggi qui al Prisma Lab del Dipartimento Ingegneria Elettrica e del Recogione di Informazione da Federico II voglio ringraziare gli amici del Circolo Culturale Bianchini di Fano e vi lascio con quello che in questi anni i ragazzi che lavorano nel mio team conoscono bene quello che è un motto ispirazionale che in qualche modo ha ispirato le mie scelte professionali e anche proprio come un atteggiamento positivo nei riguardi della vita e nei riguardi dell'uso benefico della tecnologia questo insomma è il motto che in qualche modo diciamo ha caratterizzato anche quella che è l'attività di ricerca qua al Prisma Lab è il motto è un motto di ispirazione matematica coloro i quali conoscono la matematica sanno il concetto di derivata conoscono il concetto derivata non solo di una funzione scalare ma anche di una funzione che dipende da un vettore e questa è una derivata quindi il momento in cui si fa una derivata direzionale lungo una direzione a maggior ragione se questa direzione è positiva si parla di gradiente bene da vent'anni a questa parte io ero in un consesso molto particolare una sera a Sant'Angelo di Ischia che è uno dei posti belli della nostra città della nostra regione ero in compagnia di un gruppo di scienziati di menti autorevoli della robotica e in una serata molto piacere dopo una giornata intensa di sessione io creai questo motto che è keep the gradient cioè tenere la direzione possibilmente positiva del gradiente che non è solo il fatto che poi caratterizza tutti quanti noi ingegneri che siamo degli ottimizzatori nati e quindi vogliamo ottimizzare vogliamo trarre il meglio ma riguarda proprio un atteggiamento positivo verso la vita e verso quello che l'ingegneria e la tecnologia può dare e la robotica è una di questi diciamo di questi settori che effettivamente può contribuire a proprio essere al servizio dell'umanità spero di ritrovarvi in un evento successivo che spero possa essere di persona a Fano vi ringrazio ancora dell'attenzione che avete posto verso queste tematiche e se volete contattarmi mi trovate facilmente bruno.siciliano at unina.it grazie ancora grazie a tutti Grazie a tutti.